Bentornati al nostro appuntamento su Rete8. Oggi parliamo del cedolino del mese di giugno 2019. Ci sono diverse novità, in particolare abbiamo due diverse ritenute che potranno interessare non la totalità dei nostri ascoltatori ma quelli che hanno una pensione un pochino più alta. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto noi dobbiamo vedere che sulle pensioni ogni anno viene applicata quella che è chiamata la perequazione. La perequazione è la rivalutazione con cui le pensioni vengono adeguate al costo della vita. Nell'anno in corso è stata decisa una misura di rivalutazione fissata nell'1,1%. Tuttavia, come vediamo nella slide successiva, il meccanismo non opera per tutte le pensioni in essere. Visto che la fissazione è avvenuta nel mese di dicembre, non c'è stata la possibilità per l'istituto di effettuare una rivalutazione secondo quelle che sono le disposizioni immediatamente per tutti. Quindi nei primi mesi è stata applicata una rivalutazione piena a tutti. Già avrete notato che nei mesi successivi c'è stata una riduzione per alcune pensioni. Adesso, dal mese di giugno, verranno fatte le trattenute per i mesi successivi. Vediamo qual è il tasso di rivalutazione effettivo. Con la slide successiva, vediamo che la rivalutazione piena avviene solo per un importo mensile lordo da 0 a 1.522 euro lordi. Parliamo della maggioranza delle pensioni in essere nella nostra regione. Queste avranno una rivalutazione dell'1,11%. Chi si trova in questa situazione non avrà alcuna riduzione nel mese di giugno 2019. Per le pensioni successive c'è una riduzione del tasso effettivo di rivalutazione che va dall'1,07 fino a 2.000 euro circa per andare allo 0,44 per le pensioni lordi superiore a 4.500 euro. Vediamo un esempio di calcolo di quelle che sono le pensioni che derivano dalla rivalutazione. Non leggiamo tutti gli esempi, però possiamo dire che una pensione di 800 euro a seguito dell'aumento è diventata di 808,80, una pensione di 2.000 euro da 2.000 diventa 2.021,34. Oltre quindi al recupero di quelli che sono gli importi che derivano dalla riduzione della preequazione sulle pensioni di fascia più alta abbiamo un'ulteriore riduzione. Appunto la legge di bilancio 2018, la 145 2018, ha stabilito la riduzione per i trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente superiore a 100.000 euro. Questo recupero avverrà in tre rate giugno, luglio e agosto. Importo superiore a 100.000 euro lordo, quindi si tratta di pensioni particolarmente elevate. Nella nostra regione non sono molto diffuse, quindi saranno poche le situazioni in cui ci sarà questo taglio. È un taglio articolato, ma avremo il cedolino che sarà dettagliato sulle modalità di calcolo di questo taglio. Vediamo l'ultima slide, appunto, nel cedolino di giugno, quello di cui stiamo parlando, ci sarà quindi una definizione di tutte le ritenute che sono state applicate e anche le modalità di calcolo. Ovviamente le nostre sedi sono a disposizione per dettagliare meglio quelli che sono stati i tagli effettuati sulle pensioni in caso ci fossero dubbi. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento.